Ben trovati da Arpal con le previsioni del tempo per i prossimi giorni. La Liguria si trova esposta al passaggio di fresche correnti atlantiche in quota in visto di una perturbazione attesa per la giornata di domenica. Il dettaglio oggi venerdì 2 luglio sereno poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani sui rilievi e sporadici passaggi di nubi alte, possibili brevi isolati rovesci sui versanti padani di Levante e rilievi appenninici, venti deboli sud occidentali con locali rinforzi nel pomeriggio a Ponente, locali regimi di brezza sulle zone costiere, mare mosso, levante poco mosso a Ponente, temperature massime in aumento lungo la costa tra 24 e 27 gradi, nelle zone intervento a 98 e 29 gradi. Domani sabato 3 luglio sereno poco nuvoloso al mattino, dalle ore centrali aumento della nuvolosità a carattere irregolare più compatta sui settori centrali, dal pomeriggio possibili brevi isolati rovesci sui versanti padani di Levante e rilievi appenninici, venti tra deboli moderati a regimi di brezza al mattino, tenente disporsi dai quadranti meridionali nel pomeriggio, mare al mattino mosso, levante poco mosso altrove, nel pomeriggio poco mosso ovunque, temperature minime in aumento lungo la costa intorno a 19 e 20 gradi, nelle zone interne tra 15 e 17 gradi, massime stazionarie lungo la costa tra 24 e 27 gradi, nelle zone interne intorno 28 e 29 gradi. Dopodomani, domenica 4 luglio, graduale aumento dell'instabilità nel corso della mattina con fenomeni a carattere di rovescio temporale più probabili sui rilievi le zone interne del Ponente e del centro, ma possibili anche sulle zone costiere, parziale miglioramento dalla serata con residui, deboli fenomeni e schiarite, venti in prevalenza deboli meridionali o di direzione variabile, locali regimi di brezza, mare poco mosso, temperature minime in aumento lungo la costa tra 19 e 21 gradi, nelle zone interne tra 14 e 18 gradi, massime diminuzioni lungo la costa tra 23 e 25 gradi, nelle zone interne tra 24 e 27 gradi. E' tutto, seguite gli aggiornamenti su arpal.liguria.it, sulla pagina facebook di Arpal e sul profilo instagram dell'agenzia. A risentirci!